Se il 2021 era stato un ottimo anno per Lisa Angiolini, la ranista nata a Puggibonzi, tesserata per la Virtus Buon Convento, il 2022 è stato un anno ancora più eccezionale e non è ancora finito. Ci sono stati tre ori ai giochi del Mediterraneo e le ottime prestazioni agli assoluti e agli italiani di Ostia. Come hai raggiunto questi traguardi, Lisa? Allenandomi molto meglio rispetto agli anni passati e soprattutto ho cambiato qualcosa nella testa, ho iniziato a credere in quello che facevo e dove potevo arrivare e voglio arrivare. Questi cambiamenti che hanno portato a questi risultati e alla qualificazione a campionati europei di nuoto che si svolgeranno in casa e si svolgeranno a Roma dall'undici al diciassette agosto. Sarà impegnata a integrare nei cento, nei duecento e nei cinquanta rana. Avrò il cento rana e il dodici e eventualmente la finale il giorno successivo con la semifinale al pomeriggio, il quattordici duecento rana con la stessa modalità e il sedici il cinquanta. E non sono per te i tuoi primi giochi europei? Hai già partecipato l'anno scorso a Budapest e quest'anno sarai invece a Roma. Quali sono le differenze fra le due partecipazioni ai giochi europei? Allora, sicuramente l'anno scorso avevo preparato il dover centrare i tempi, quindi sono arrivata lì comunque con una preparazione un po' più leggera, se si può dire così. Sono andata lì perché dovevo fare esperienza fondamentalmente, quindi non puntavo a niente se non al divertirmi e a godermi l'esperienza. Quest'anno è già diverso, spero comunque sì sempre di divertirmi perché quello è l'obiettivo principale, diciamo, però vorrei centrare sicuramente una semifinale e perché no magari anche la finale, però andiamo passo passo. La rana italiana sta vivendo un momento fantastico, soprattutto al femminile. Qual è la tua distanza preferita? Allora, la mia distanza preferita mentalmente sono i 50 perché non ho aspettative, la prendo molto più come un gioco, visto che non la sento la mia gara. La mia gara preferita, cioè quella che penso di poter dare davvero tanto, è i 200. Infatti ho proprio un'altra tensione dietro il blocco, tra le due. E uscendo dalla vasca hai un rapporto particolare con gli animali. Quali sono, quanti sono gli animali che hai? Allora, io in casa ho una peste di tre mesi che è una canina adottata, siamo andate a prenderla giù a Roma io e mia madre, è l'incrocio tra un pastore tedesco e un rottweiler, è un po' impegnativa ma con calma la stiamo addomesticando. Poi ho un piccolo oniglio di due anni e mezzo e ho un inseparabile anche lui trovato qualche anno fa durante la pandemia nel piazzale di casa. Abbiamo fatto anche l'annuncio del ritrovamento ma nessuno l'ha reclamato e quindi l'abbiamo adottato più che volentieri. Primo appuntamento con gli europei di Roma sarà, come detto, venerdì 12 agosto con le qualificazioni dei 100 e ti facciamo un grosso in bocca al lupo per questa gara e per le altre gare a cui parteciperai. In bocca al lupo, incrociamo le dita. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.